Musica Ben trovati tra poco l'appuntamento con l'informazione. Mafia, un arresto a Campobello di Licata, grigento sequestrati 5 immobili. Famiglie di fatto, i contratti di convivenza, iniziativa del Consiglio notarile di Caltanissetta. A tra poco. Ben trovati, nuovo appuntamento con l'informazione. Mafia, un arresto a Campobello di Licata. Un'ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita dai carabinieri a carico di Angelo Gioacchino Midioni, 38 anni, bracciante di Campobello di Licata, per associazione di tipo mafioso ed estorsione in concorso con l'aggravante delle modalità mafiose. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Palermo Lorenzo Matassa, su richiesta del sostituto procuratore Giuseppe Fici della procura distrettuale antimafia presso il Tribunale di Palermo. L'uomo è indagato d'aver fatto parte dell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra e in particolare di essere organico alla famiglia di Campobello di Licata. Midioni, in più occasioni, avrebbe imposto il pizzo ad imprenditori che operavano nell'area d'influenza della famiglia mafiosa Campobellese. Tra gli elementi raccolti a carico di Midioni, determinanti le popolazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia Maurizio Digati e Giuseppe Serdano. Restiamo nell'Agrigentino dove sono stati sequestrati cinque immobili. Le fiamme gialle di Agrigento hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Tribunale relativo a cinque immobili di proprietà dell'ex direttore della Cassa Edile di Agrigento Salvatore Grado. La misura cautelare, finalizzata alla conservazione patrimoniale in vista della possibile confisca dei beni, scaturisce da un'indagine di polizia giudiziaria e da un successivo controllo fiscale nel 2008. Sarebbe emersa un'evasione fiscale per circa 232 mila euro. Inoltre sarebbero stati riscossi nello stesso anno e monumenti per oltre 800 mila euro, dei quali circa 550 mila in maniera illegittima. Contestualmente al sequestro degli immobili i finanzieri hanno notificato l'avviso della conclusione delle indagini preliminari. Famiglie di fatto, i contratti di convivenza. Iniziativa del Consiglio notarile di Caltanissetta. Famiglie di fatto, i notai presentano i contratti di convivenza. Sì, dal 2007 fino al 2012 abbiamo registrato un notevole incremento delle unioni di fatto che sono passate da circa 500 mila a ben 972 mila. È un fenomeno del quale il notariato non poteva non tenere conto e pertanto a livello nazionale abbiamo avuto questa iniziativa diffusa in tutti i consigli notarili d'Italia che il prossimo sabato Open Day rimarranno aperti tutta la giornata per fornire consulenze a chi ne abbia bisogno. Consulenze che si estenderanno dal nostro settore tipico che è quello di carattere economico patrimoniale anche a soluzioni di carattere più squisitamente familiare. Perché noi notai, come lei sa, ci occupiamo anche di volontà alla giurisdizione. Giornalmente nei nostri studi ci occupiamo dei piccoli e grandi problemi familiari. Diciamo che siamo deputati a questo tipo particolare di rapporto con la nostra clientela. Com'è la situazione nel Nisseno? La situazione nel Nisseno credo che sia lo specchio della situazione che c'è nel resto dell'Italia. Vediamo che tante giovani coppie per motivi economici non contraggono matrimonio, non perché non abbiano una fede, non perché non sentano lo stimolo e l'esigenza di contrarre un vingolo religioso, ma soprattutto perché per motivi economici non riescono a mantenere una famiglia. Bene, noi ci ripromettiamo di intervenire anche con idonei suggerimenti, anche in questo senso, per dare una maggiore stabilità alle coppie che o si sono formate da poco tempo che si stanno per formare. Una domanda che si pongono in molti, convivere conviene? Beh, è una domanda alla quale rispondo con un po' di imbarazzo, nel senso che non credo che sia un problema di convenienza, è un problema di sentimento. Perciò convivere conviene per usare il suo termine se ci si vuole bene, convivere conviene se si ha l'intenzione di mantenere rapporti saldi e solidi con una persona. Poi se a tutto questo aggiungiamo che questa convivenza può essere anche supportata da un contributo reciproco di carattere economico che benvenga e in questo senso noi notari siamo disponibili a dare tutti i suggerimenti e i consigli che la nostra competenza ci consente di dare. Solidarietà iniziative per gli indigenti nel Nisseno. Solidarietà ancora padre Alessandro in prima linea, raccolta di generi alimentari e coperte per gli immigrati e non solo. Sì, il Vescovo ci ha chiamato la Caritas, il padre Michele Quattrocchi e me, per pensare soprattutto ai poveri con la mensa, ci ha dato già degli anticipi perché ancora con la prefettura che abbiamo fatto la convenzione per gli immigrati il 21 di novembre, ma i tempi della prefettura sappiamo quali sono per i pagamenti. E quindi abbiamo 80 italiani che giornalmente mangiano, 90 e devono mangiare dignitosamente e poi 70, la seconda mensa per gli immigrati. Ma il Vescovo ha voluto che si pensasse soprattutto in questo periodo di freddo, soprattutto a questi che stanno a Pian del Lago 2, verso le zone di Prestianni. Vicino Pian del Lago c'è un gruppo numeroso di immigrati che vivono fuori nelle tente e allora ci ha chiesto di distribuire soprattutto coperte perché già altri ragazzi ho visto che hanno portato maglioni e ancora le li portano, ma le coperze sono necessarie e quindi stiamo anticipando, comprandoli perché abbiamo visto che alcuni ce li hanno portati ma non bastano perché sono tantissimi. Quindi veramente se ci sono possibilità anche di tovaglie, di lenzuola, di seconda mano, terza mano, li possono portare perché noi li utilizziamo. Perché non bisogna aspettare Natale per fare solidarietà. È Natale ogni giorno in cui facciamo nascere l'uomo e restituiamo all'uomo la dignità, quella dignità che ci ha portato Cristo, che da ricco che si era si è fatto povero per noi. Cosa possono fare gli eventuali benefattori? Possono venire in barrocchio a portare o direttamente al centro Madesperanza in via Mussomeli dove loro possono venire anche a donare tempo sia per la mattina o il pomeriggio a sbucciare patate, a stare insieme con gli altri perché poi tante volte ci lamentiamo che non c'è lavoro, però il Signore poi non si fa vincere in generosità nella misura in cui noi doniamo agli altri. Di pomeriggio abbiamo un doposcuola per bambini, abbiamo attività di distribuzione cibo con le vingenziane che quotidianamente aiutano fino a casa i tanti poveri italiani nascosti. Ci fermiamo per la pubblicità a tra poco. SOS TCS dall'UGL forestale. Attenzione, puntate sulle spettanze dei lavoratori. SOS TCS dall'UGL forestale. Qual è il problema? I problemi della forestale sono tanti. Principalmente in questo momento abbiamo il problema veramente che se qualcuno ci ascolta come istituzione che venga a darci una mano d'aiuto. Siamo senza soldi. Abbiamo le famiglie che non possiamo più poterli mantenere. Quali sono gli stipendi che attendete? Gli stipendi ora si sono fatti un po' a settembre, ottobre e diciamo novembre che sta terminando. Io praticamente, io e tanti nostri colleghi, già il 4 dicembre siamo fuori e ancora aspettiamo i stipendi. Non sappiamo dove sono fermi. Ci promettono è domani, è dopodomani, è dopodomani ma arrivano voci anche che forse ci faremo il Natale anche senza stipendi. Qual è il vostro appello? Il nostro appello, stavolta lo diciamo e se qualcuno ha come farglielo arrivare a Crocetta di sbloccare il necessario oppure si fa di portavoce perché abbiamo problemi seri che qualcuno già ha, la luce tagliata, il gas, l'acqua e queste sono cose importanti. Che si fanno i portavoci, i sindaci, i prefetti che bloccano tutti questi enti dove dicono attenzione, i forestali non prendono i soldi, bloccate tutte queste situazioni di non tagliare acqua perché sono le principali cose che purtroppo una famiglia bisogna. Poi abbiamo assicurazione da parte, abbiamo tutto, tutto. Non avendo soldi, non prendendo soldi ogni mese significa che una famiglia è distrutta, non possiamo dare un futuro alle nostre famiglie. Un'altra cosa che vorrei dire, che vorrei dire, che ci incominciano a fare sapere, incominciando dal governo regionale, che cosa dobbiamo fare il 2014, è possibile che 30 anni ancora abbiamo dei numeri, centunista, 78, 151, 180, vogliamo la stabilizzazione. Se si continua così, penso che l'anno che viene magari facciamo 26 giorni, oppure niente proprio. Come si continua così, una volta 110, una volta 100, una volta 120, una volta 150, una volta solo è stato. Ora a 101 ci siamo fermati, così non si può continuare e nemmeno si può vivere così perché i soldi non ci bastano mai. C'è chi ci va nel mezzo e chi ha il bisogno e chi lavora onestamente. Ma non penso che questa situazione possa andare ancora avanti, quindi qualcosa succederà a dicembre, quindi mi auguro che non succeda e che come siamo un popolo civile vogliamo tale rimanere, però ci stanno portando all'esasperazione di andare a buttare nella spazzatura la civiltà. Grazie. Ato CL1, tempo di votazioni sindacali. Tempo di votazioni al lato ambiente CL1, si vota per i rappresentanti sindacali dei lavoratori? Sì, si vota al lato CL1 ma si vota in tutti i comparti dove ci sono i nuclei, dove ci sono i seggi per l'igiene ambientale. In assoluto si vota in questo comparto, stante che questo è un successo del sindacato CGL, Cisleguille e della FIA, del firmatario dei contratti FISE, Asso Ambiente e Federambiente, in quanto per la prima volta si può finalmente votare nei posti di lavoro per eleggere i propri rappresentanti sindacali. Qui a Caltanissetta abbiamo un seggio unico, anzi un seggio unico per quanto riguarda lato ambiente CL1, ora exeato in quanto SRR, però fino al 31 insomma abbiamo costituito il seggio qui all'exeato CL1, in quanto tutti i lavoratori hanno diritto ad esprimere il proprio voto. Le liste che sono state presentate sono due, CGL e la Guiltemp. Chiaramente per noi è stato un lavoro certosino anche perché, ripeto, questi lavoratori non sono ancora entrati nell'ottica di queste elezioni per come si devono svolgere, è l'importanza che significa avere i propri rappresentanti dove possono andare a controbattere, a discutere, a proporre alle proprie aziende tutte quelle che sono le problematiche all'interno. Il seggio per quanto riguarda l'ato, l'abbiamo fatto qui, seggio unico, attuato in via salvo d'acquisto. Si vota pure a Caltambiente, abbiamo un altro seggio a Caltambiente, ma anche e soprattutto a Gela e soprattutto è una vittoria dei lavoratori potere oggi esprimere i propri RSU.